Un fine settimana all'insegna della danza sportiva alla Palacchiarbola di Trieste, dove si terrà la manifestazione Danza Sportiva Senza Confini 2016. L'importante manifestazione è nata sulla scia di iniziative analoghe già attivate per altri sport grazie ai buoni rapporti creatisi nel tempo, tra il Comitato Regionale della Federdanza del Friuli Venezia Giulia, del Presidente Sergio Osidari, e la Federazione Slovena, entrambe aderenti alla IDO, la Federazione Internazionale di Danza Sportiva. Lo scopo di tale manifestazione è quello di dare grande visibilità a discipline sportive molto gradite ai giovani come le danze artistiche, la show dance, la street dance, la street dance show, la jazz dance, la electric boogie e la hip hop battle. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 800 atleti di tutte le età provenienti da Slovenia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e altre regioni italiane. Da segnalare nella giornata di domenica l'importante esibizione della pluricampionessa mondiale di show dance, Arnica Marco Iuvancic, oltre alla presenza di numerosi altri atleti di elevatissimo livello. I ringraziamenti devono essere fatti al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, al Comitato Regionale del CONI, all'Associazione Accademia Danze di Trieste che ha curato l'aspetto logistico in loco. Questi hanno svolto un'importante cooperazione per la realizzazione della manifestazione, credendo nell'importanza del messaggio che può trasmettere lo sport aprendo i confini.